Il comune di Sulmona ha ricordato Oscar Fuà, Prato La Peligna, invece Rocco Di Pillo. Ma la memoria viene custodita e coltivata innanzitutto con un processo educativo per le giovani generazioni. Ecco perché in questa giornata abbiamo deciso di rendere pubblico il video realizzato dalla scuola media o video. Anziché osservare il classico minuto di silenzio alle ore 10.30 circa, tutte le classi con le porte aperte hanno declamato la poesia a scarpette rosse per non dimenticare. Non si sprecavano da, e i bimbi smogliavano e li radevano, prima di si fingere che ne legavano la casa. C'è un paio di scarpette rosse, di scarpette rosse per la domenica, a Bucherbach. Erano di un bimbo di tre anni, forse di tre anni e mezzo. Ci sapete che i colori erano gli occhi, brutali nei formi. Ma questo piatto non lo possiamo immaginare, si sa come piangono i bambini. Anche i sottili li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità, perché i bimbi e i bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse, a Bucherbach. Quasi muore, perché i bimbi e i bambini morti non si sumano le sue ore. Grazie a tutti.